Se il veicolo è dotato di integrazione per smartphone, con Android Auto è possibile utilizzare le funzioni dei telefoni cellulari dotati di sistema operativo Android tramite il sistema multimediale. Questo può essere azionato tramite gli elementi di comando integrati nel veicolo. Per motivi di sicurezza, la prima attivazione di Android Auto sul sistema multimediale deve essere eseguita a veicolo fermo. Prima di poter attivare il collegamento per la prima volta, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti. L'app Android Auto, aggiornata, deve essere installata nel telefono cellulare e il telefono cellulare deve essere collegato al sistema multimediale tramite un cavo USB adatto oppure deve essere supportato il collegamento senza cavo. Al primo collegamento dell'applicazione viene visualizzato un messaggio contenente le disposizioni sulla tutela dei dati. Affinché il collegamento possa essere attivato correttamente, confermare il messaggio con Accettare e avviare. Se il proprio telefono cellulare e il sistema multimediale supportano il collegamento senza cavo, per utilizzare Android Auto è possibile procedere anche nel modo seguente. Verificare che sul proprio dispositivo sia attivata la funzione Bluetooth e che il dispositivo sia visibile agli altri. Navigare quindi mediante il tasto Home fino al menu Telefono. Tramite la voce Impostazioni, selezionare Gestione apparecchi e poi Collegare nuovo apparecchio. Confermare la corrispondenza del codice visualizzato sul sistema multimediale e sul telefono cellulare. Successivamente, selezionare la voce Avviare Android Auto. Confermare quindi le disposizioni sulla tutela dei dati selezionando Accettare e avviare. Per uscire da Android Auto, con o senza collegamento via cavo, premere il tasto Home. Per chiudere Android Auto, selezionare nella Gestione apparecchi il simbolo Android Auto accanto al nome del proprio telefono cellulare.